L'ultimo 1 per lei, ultime kurde, ultime kurde per Debora, compagnoli, forza Debora, forza Debora, ultime forze, lascia correre qui, la beve è andata a forze, ma è un bel vantaggio, l'arca di Lina, un po' troppo, aveva 1.29, speriamo che vassi, Lina, 4 secondi, sono l'ultimo, forza Debora e te la fa, lina, medaglia loro!